Buongiorno, oggi in movimento. Oggi vorrei trattare un tema che ho affrontato ieri, in quel di Roma, ovvero rivoluzionare completamente lo schema di pensiero di un'azienda. Assolutamente non facile, difficile da comprendere sotto molti aspetti, però si arriva a un punto nella vita di un'azienda e nella vita delle persone in cui è fondamentale porsi un momento di cambiamento e tracciarlo questo momento. Ieri abbiamo visto come una struttura estremamente grande, stiamo parlando di 1.500-1.600 persone, a livello dirigenziale, quindi nei primi 50-60 persone on top, debba porsi la domanda di invertire il sistema, ovvero fare in modo che la dirigenza, il management, la presidenza e chiunque è on top si metta a disposizione delle persone. Certamente non è facile, perché vuol dire proprio rivoluzionare completamente il proprio sistema, vuol dire vedere le cose da un punto di vista diverso. Nella storia l'organigramma è dall'alto al basso, chi comanda è sopra e chi non comanda è sotto, e via via dicendo. No, è il contrario. Proprio ieri questo, nel farlo vedere, nel condividerlo, i ragazzi più giovani subito hanno apprezzato tantissimo questa visione diversa, questo modo di pensare. La domanda poi che è emersa è ma avranno voglia di farlo? Si sentiranno di farlo? Avranno il coraggio di farlo? Io ritengo che in un momento di cambiamento come questo, il rivoluzionare lo schema, il rivoluzionare l'organigramma, crearsi dei flussi e lavorare per flussi di valore, sia l'elemento essenziale per essere vincenti in questo mercato. Provate a pensare a come siete strutturati e a come potreste strutturarvi. E se avete bisogno di informazioni, non esitate.